E' durata sette giorni la latitanza di Bukalil Salah, il 21enne egiziano che l'11 luglio scorso evase dalla casa circondariale San Donato di Pescara, dove era arrivato il 24 giugno proveniente dal carcere di Vasto. Il giovane, in attesa di giudizio per rapina aggravata, era riuscito a scavalcare due muri di cinta e un cancello durante l'ora d'aria, un'azione molto rapida durata appena quattro minuti. Salah, che aveva una decina di alias, è stato arrestato ieri sera in Puglia, grazie alla preziosa segnalazione di un cittadino che lo ha riconosciuto mentre era su un treno e alla minuziosa attività investigativa dell'equestura pescarese. Questa mattina la conferenza stampa alla presenza dell'equestore Luigi Liguori. Dove lo avete trovato? E' stato catturato nella città di Cerignoli, in provincia di Foggia, anche quella squadra mobile e quel commissariato hanno collaborato ieri sera ai fini della cattura. Era con alcuni concittadini egiziani che sono stati a loro volta denunciati per favoreggiamento, due persone. Sempre questa mattina rappresentanti sindacali della Polizia Penitenziaria e la deputata abruzzese del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto, sono stati in visita nel carcere pescarese per toccare con mano le carenze peraltro già denunciate dai sindacati negli ultimi anni. Sentiamo proprio l'onorevole reduce da altre visite nelle carceri abruzzesi. Di questa notizia che lei ha appena dato ci rincuora, tuttavia le problematiche sono sempre le stesse, si ripetono in tutti gli istituti penitenziari già visitati, ad esempio sulla provincia di Chieti, Chieti-Lanciano-Vasto. Anche qui sono le stesse problematiche, come dicevo la carenza di personale, l'età anagrafica troppo avanzata e il forte stress a cui sono sottoposti tutti gli agenti della Polizia Penitenziaria. Ecco, io intendo intervenire su questo, l'ho già fatto con alcune interrogazioni parlamentari, abbiamo ottenuto l'incremento di 12 unità operative, ma non è sufficiente. Continuerò così come continuerò per garantire un'assistenza, un supporto psicologico a tutta la Polizia Penitenziaria. Ecco, il mio appello oggi va a tutta la politica, non solo al Movimento 5 Stelle, perché ci mettiamo davvero al fianco concretamente dei servitori dello Stato anche negli istituti penitenziari.